Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in questo video andremo a parlare di questa skin che vi lascio sullo schermo che potrebbe essere una skin appunto gratuita ma prima di andare a parlare di questo vi ricordo di lasciare like e iscrivervi mi raccomando e per supportare questo canale e non vi chiedo mai di supportarlo anche facendomi regali sul mio account quindi se volete farlo tutto in descrizione di come procedere andiamo e parliamo di questa appunto skin che dovrebbe essere gratuita dico dovrebbe perché allora questa skin doveva uscire già da parecchio tempo già da vecchie stagioni l'avevano linkata però non era mai uscita né nello shop e né tramite missioni o eventi praticamente questa skin ve la descrivo un pochino non mi ricordo il suo nome ora però dovrebbe essere appunto quella skin tanto io comunque vi lascio la foto quindi avrete già capito praticamente è questa skin default che indossa un abito appunto da moto moto macchine comunque è quello stile lì di fortnet tutta argentata con strisce a modi arcobaleno quindi colorata poi c'era anche un piccone con il volante e con le ali sempre dello stesso stile e due un emote ma non balletti non parlo di emotico e uno spray ora all'inizio della stagione avevano linkato appunto un codice a barre cioè non un codice un codice ora ve lo faccio vedere praticamente in questa schermata ve la visualizzo di lato dove c'era scritta esplora gli scenari se noi andiamo a vedere ci dovrebbe essere appunto una parte del del codice ora su questa schermata non penso che hanno riprodotto il codice comunque la schermata era questa per chi fosse interessato a vederlo e tramite quel codice si è scoperto questa skin appunto che era collegata in maniera tale e probabilmente o verrà utilizzata come premi tipo mi faccio qualche esempio tipo Winter Dave l'ultimo evento che è stato era riavvia un amico insomma potrebbe essere uno di quei premi di quei link che Fortnite ogni tanto fa fare alla community oppure potrebbe essere anche un regalo per chi vince all'evento della community cioè per esempio oppure potrebbe essere poi messa nello shop quindi non sappiamo se effettivamente tutto questo che vi sto dicendo la skin il piccone eccetera saranno gratuiti e quindi inseriti in una di queste possibili opzioni quindi che ne so riavvia un amico stavo dicendo Winter Dave ma non penso perché non è una cosa natalizia quindi non oppure sarà un evento a parte come è stato quello di del compleanno di Fortnite praticamente tramite missioni o missioni online come è successo appunto come ho detto prima quindi non sappiamo oppure ci siamo tutti sbagliati e Fortnite lo metteranno nel negozio oggetti quindi vi terrò aggiornati vi leggete spesso i commenti perché se trovo qualche altra novità o ve la confermo ve la confermerò sotto praticamente sotto nei commenti fatemi sapere se vi piace questa skin se vi piace questo set anche perché sono tutte skin rare cioè no non comuni quindi potrebbero anche essere che Fortnite regalerà queste cose forse si spera e per questo video è tutto noi ci vediamo a un prossimo video e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti